Giulia Stabile. Con San Giovanni più cresciamo più è intensa la magia tra di noi, Giulia Stabile si racconta nel salotto di Verissimo. Ormai il bullismo è solo un lontano ricordo, e ha imparato a convivere con le sue insicurezze, poi ad affrontarle. Sto crescendo da tutti i punti di vista, ammette. Continua l'amore con San Giovanni. Sto crescendo da tutti i punti di vista, ammette. Sto crescendo da tutti i punti di vista, ammette. Un Advisire new da tutti i punti di vista, ammette. lib骸 per la realtà Just leave me, just leave me, just Leave this guy, you can be With Sangio va benissimo, più andiamo avanti e meglio va, più cresciamo e più si intensifica la magia, racconta piena di gioia alla conduttrice. Siamo entrambi fieri uno dell'altra e ci supportiamo sempre, anche a distanza. Devo dire che comunque ci stiamo vedendo più spesso. Ormai le presentazioni in famiglia sono fatte e, quando Sangio è a Roma, è ospite della famiglia stabile, che è ben felice di vederlo. Mia mamma dice che quando viene lui a casa, siamo tutti ancora più uniti.